Sanità e salute, quali sono le prospettive della Valtiberina? Il futuro prossimo vede subito un altro passo verso l'attuazione del protocollo che fu firmato nel febbraio 2008. Si è proceduto alla ristrutturazione, c'è un nuovo pronto soccorso già completato all'ospedale. L'azienda inizierà dato in appalto i lavori dell'emodialisi, un importantissimo servizio che viene rinnovato, è proprio completamente ampliato e disporrà di credo 14 posti letto e sarà riferimento anche per Città di Castello in quanto saranno predisposti anche due ricoveri per malattie infettive, quindi una sistemazione separata che al momento credo che Castello non abbia questa possibilità. E poi siamo riusciti negli ultimi giorni direi a avere un'approvazione di un progetto che rivede la sistemazione del secondo piano, che sarebbe in sostanza quello che poi sarebbe l'area chirurgica, secondo piano che avrà attuazione però successivamente siamo a un progetto preliminare ancora, però questo significa che noi non fermeremo mai i lavori all'ospedale.